quello che fa sta facendo delle foto strane lei che combina mi scusi il dito che sta combinando che è successo che combina lei qua che fa il giretto che sta combinando niente c'ha la faccia della spia russa lei c'ha la faccia della spia russa la controllo la tengo d'occhio vado a fare un giro vai via c'è la pistola c'è la pistola signore scusate non guardate il dito c'è un problema mio scusate ma devo parlare con qualcuno della finanza voglio fare un discorso serio cosa state combinando e ho capito per poco mi veniva addosso ma è così che ci si comporta va bene che riesca a scende dalla macchina va bene che riesca a scende dalla macchina tutto la cintura aspetta aspetta ora c'è il suo sceso il capetto piccolo chiuso ma l'abbiamo fatta l'abbiamo accelerato e non lo possiamo usare non possiamo non lo so andare via vorrei parlare con delle forze dell'ordine fare dei discorso cosa sa vado a destra con il capitato dell'arma dei carabinieri adesso è un po' tu non possiamo rispondere all'altro domanda va bene magari se c'è acqua si dico se ci fosse qualcuno ogni tanto però nelle nelle dovute sedi si deve allontanare si deve allontanare si deve allontanare allora restiamo anche lei ok complimenti per la roba taroccata la finanza è comprare la roba taroccata ma è stata in corso una polizia in corso una roba di polizia immagino guarda immagino che che gene che abbiamo qua immagino i geni proprio di polizia si mi piace mi piace mi piace Grazie a tutti